Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, buon giovedì. L'appuntamento di oggi di questo nostro mini corso di scrittura terapeutica, di scrittura legata al rapporto tra lo scrivere e le nostre emozioni profonde, lo voglio dedicare ad uno scrittore che non c'è più, che è mancato, i giornali ci hanno dato notizia questa mattina e che è Sepulveda. Uno scrittore importante che ci ha accompagnato con le sue opere meravigliose e straordinarie. Molti di voi, molte di voi avranno sicuramente letto quel libro stupendo che è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Una storia piena di valori, l'amicizia, il coraggio, l'integrazione, l'amicizia tra due animali, il gatto e l'uccello, in questo caso la gabbianella, che sono a volte in contrasto. Un libro pieno di metafore che ci ha insegnato tantissimo, ma sono tanti i libri belli di Sepulveda che ci hanno accompagnato. Uno dei miei preferiti è il vecchio che leggeva romanzi d'amore. E proprio in omaggio a Sepulveda, la grandezza di questo scrittore, oggi vi voglio parlare dell'importanza della lettura per chi ama scrivere. Io ricordo sempre una frase che la mia maestra delle scuole elementari, quindi parliamo di tanti tanti anni fa, quando ci invitava a scrivere, quando ci dava i compiti in classe o degli esercizi da fare a casa, ci diceva sempre chi non sa leggere non sa scrivere. Ed è vero, per scrivere dobbiamo alimentarci, dobbiamo nutrirci, solo così riusciremo ad imparare a scrivere in un modo che vada un po' oltre la semplice scrittura per noi stessi del diario, di un quaderno, dell'agenda, di quelle pagine che ci accompagnano e che ci è utile scrivere per scaricarci, per, come vi dico sempre, vedere meglio le nostre emozioni. Ma se vogliamo affrontare in maniera un po' più organica la scrittura, noi dobbiamo innanzitutto leggere, 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 leggere tanto. Ora, così come scrivere è un po' una disciplina, comunque la scrittura va allenata, allo stesso tempo la lettura. Sì, spesso presi dalle nostre vite frenetiche diciamo che non abbiamo tempo per leggere. Io non credo sia vero, se vogliamo il tempo lo troviamo. Noi troviamo sempre il tempo per le cose che ci interessano profondamente. Lo troviamo in qualsiasi contesto, in qualsiasi condizione. Se non leggiamo è perché non vogliamo leggere, perché non siamo stati abituati a farlo. Però si può sempre iniziare. La lettura è importante perché ci fa viaggiare con la mente. Penso a chi, a molte di voi, delle donne in rosa che in questo momento, oltre la quarantena, sono costrette a casa dalla malattia, dalla convalescenza, ma in generale la scrittura proprio ci apre dei mondi perché un'operazione bellissima che il nostro cervello e la nostra anima fa quando leggiamo è di tuffarci completamente nel mondo che l'autore e lo scrittore ha costruito. Ognuno di noi ha un libro o dei libri preferiti. Tra i tanti libri preferiti che io ho letto e riletto c'è questo, Agota Christophe, la trilogia della città di K. Questo è uno dei miei romanzi preferiti, mi piace moltissimo lo stile di questa autrice, mi piace moltissimo il mondo che racconta, oltre il modo in cui lo racconta. Quindi oggi, più che darvi un esercizio di scrittura, voglio suggerirvi un esercizio di lettura. Proviamo a rileggere, iniziamo a rileggere, uno dei nostri romanzi preferiti che magari abbiamo letto tanti, tanti, tanti anni fa e proviamo a vedere oggi cosa ci racconta. Proviamo a vedere se oggi cogliamo di quel libro delle cose che tanto tempo fa c'erano sfuggite. Perché? Perché oggi noi siamo rispetto a quel passato forse un po' cambiati, è cambiato il nostro sguardo sul mondo. Proviamo a capire come ci parla oggi quel libro. Quindi il mio invito oggi è quello di leggere, leggere sempre. La lettura è una grande compagnia nella vita e al pari della scrittura può essere terapeutica. Quindi riprendiamo il nostro libro preferito e rileggiamolo con un occhio diverso. Buona giornata e a domani.